Un incidente sul lavoro alla Feralpi di Lunato del Garda, nel Bresciano. Un uomo di 52 anni è morto, travolto da scorie incandescenti. Stava sistemando il tetto di un cappannone dopo le grandinate degli scorsi giorni, accaduto precipitando per oltre 7 metri. Incidente mortare sul lavoro nel Mantovano a perdere la vita un agricoltore di 57 anni. Nei primi 7 mesi del 2024 le denunce di infortuni mortali sul lavoro erano arrivate in Italia a 577. 530 uomini, 47 donne. Fascia d'età più colpita fra i 45 e i 59 anni, 269 morti. 102 le vittime in Lombardia, a cui si sono aggiunte solo ad agosto altri 9 morti, 18 in più rispetto al 2023. Una tragica contabilità che deve essere frequentemente aggiornata come Fallina e l'Istituto Nazionale Assicurazioni contro gli Infortuni sul lavoro sul portare Open Data, che riporta anche il numero complessivo degli infortuni, che sempre a luglio di quest'anno in Italia ha superato i 350.000 casi. In Lombardia, 66.445 più 1,5% sul 2023. Formazione, addestramento, controlli, sorveglianza, personale ispettivo. I sindacati non smettono di chiedere il potenziamento di istituti e pratiche che possono invertire quella che senza più remore viene chiamata strage sul lavoro, nei cantieri, nella manifattura, in agricoltura. Dal 1 ottobre si registra però una novità, con l'introduzione della patente a punti nei cantieri, obbligatoria per tutte le imprese edili ed impiantistica. 140.000 in tutta la Lombardia, il 25% secondo l'Ispettorato del Lavoro, senza carta in regola. Non pagano i contributi, non pagano i premi all'INAIL, non pagano il fisco, non sono in regola con le attuali normative. Eppure continuano a lavorare, ma con la patente a punti sarà sempre più difficile. Queste aziende che non rispettano le normative non avranno la possibilità di accedere al titolo abilitativo per operare nei cantieri che la patente accredita. Quindi dal punto di vista della funzione di vigilanza è un grande passo avanti. La fase transitoria per l'ottenimento della patente durerà tutto ottobre. Per l'intero mese si potrà operare con l'autocertificazione. Per la CNA Lombarda, fra i suoi associati tante delle 80.000 imprese individuali del settore, un inutile aggravio burocratico. Noi abbiamo sempre supposto che la miglior via per rendere il paese più sicuro, i lavoratori e le imprese più sicuri nei cantieri sia un'altra, una bella legge di disciplina dell'accesso alla professione, che fa una selezione basata sulla formazione del titolare del lavoratore. Qualche perplessità sulla gestione della patente, ma nel complesso a suoi impredi, il plaude alla nuova legge. Per le imprese serie che già operano in sicurezza non implica niente di aggiuntivo, però permette di a poco a poco mandare fuori dal mercato le imprese che non sono serie. Sospensione e revoca in caso di incidenti, la patente prevede anche un incremento dei punti fino a 100 per le aziende che investono in sicurezza.